Ciao a tutti e bentornati in Tessilan News. Quest'oggi parliamo di un set dal design davvero molto accattivante, l'effetto maculato che diciamolo è sempre di moda, con certe dimensioni che sicuramente offrono una grande versatilità. Analizziamo insieme nel dettaglio il set borsa imba. Ecco qui com'è composto il set imba. Avrete quindi una patta e un fondo e ovviamente relativi accessori. Andiamo però per gradi. Parliamo di un set in ecopelle, dall'effetto maculato e poi in ecopelle, ma questo effetto leggermente scamosciato che si percepisce al attatto in maniera davvero molto delicata, con dettagli tutti argento. La patta è dotata di questa chiusura girello e misura 22 di larghezza per 19,5 cm di altezza. È rivestita in ecopelle sia esternamente che internamente. Ecco qui dettaglio da non sottovalutare ed è rinforzata con tutte queste cuciture lungo il perimetro. È dotata di un manico molto versatile. Eccolo qui, come potete vedere, infatti nel momento in cui realizzerete la vostra borsa vi sarà possibile utilizzarla sia in questo modo, quindi semplicemente tirando il manico, ma sia unendo una pratica tracolla, poi magari successivamente analizzeremo un po' nel dettaglio, che potrete unire alla patta grazie a questi pratici anelli rinforzati e rivettati. Passiamo adesso invece al fondo. Eccolo qui, un classico fondo dall'aspetto maculato nella parte esterna, che misura 19,5 x 9,5 cm. I fori che troverete lungo tutto il perimetro del fondo, eccoli qui, e anche nella parte superiore della patta, hanno invece un diametro di circa 0,5 cm. Ma parliamo adesso anche di un altro dettaglio che è davvero una chicca per quanto riguarda questo set timba. abbiamo detto che quindi la patta è dotata anche di questa pratica chiusura girello. Per mantenere diciamo un equilibrio a livello anche estetico della borsa, troverete questo piccolo rettangolino che misura 4,5 x 2,5 cm, che potrete appunto applicare direttamente sulla borsa, insieme ovviamente alla chiusura girello. Eccolo qui. Ma adesso vediamo anche le altre varianti di colore. Il set timba che abbiamo visionato finora è la variante chiaro. Adesso vediamo però anche le altre. Questa invece, meravigliosa, è la variante brown. Questo invece è il set timba senape. E infine quest'ultima, stupenda, è il set timba rosso. Quattro varianti di colore, molto versatili, che si possono sicuramente adattare a qualsiasi outfit e a qualsiasi colore voi stiate indossando. Il set borsa in va sicuramente può essere poi impreziosito e arricchito con tanti dettagli. Potrebbe ad esempio essere completato con il tie sublime per aggiungere un po' di compattezza e di solidità e risaltare quindi di conseguenza anche l'effetto maculato. Oppure il tie sublime lux per dare un tocco di lucentezza ma allo stesso tempo anche di eleganza. O per chi vuole invece dare ulteriori dettagli con un punto magari in rilievo potrebbe utilizzare anche perché no il tie skinny. Ma parliamo adesso un attimo del manico. Questa borsa infatti è davvero molto versatile proprio perché come avete visto può essere indossata tranquillamente a mano ma perché no anche a tracolla. Potreste ad esempio unire una tracolla a catena per una serata elegante e formale. Oppure perché no anche una tracolla old style per un look più quotidiano ma allo stesso tempo anche ricercato. Un set borsa quindi che nel momento in cui lo avrete completato vi permetterà di poter indossare un accessorio davvero camaleontico capace di adattarsi a qualsiasi occasione oppure evento. E soprattutto un prodotto che garantisce un'elevata qualità sia nei materiali che nella lavorazione. Proprio perché parliamo di un prodotto made in Italy. Io vi ringrazio come sempre per averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi su tutti i nostri social, vale a dire YouTube, Facebook, Instagram, Pinterest e TikTok di leggere assiduamente e settimanalmente i nostri articoli presenti sul blog sul nostro sito e noi ci vediamo al prossimo nuovo articolo. Ciao!